Sesta edizione dell'evento dedicato al calcio e ai media Gollagrappoli. Ad aprire Gollagrappoli sarà alle 17.30 di sabato 25 aprile presso la Sala Civica del Comune una conferenza sul tema i mondiali narrati dai media. Storie che hanno fatto la storia del professore Francesco Pire e dell'ex telecronista della Nazionale Bruno Pizzul che di edizioni dei mondiali ne ha personalmente seguite ben nove, da Messico 70 a Corea e Giappone 2002. La sesta edizione di Gollagrappoli si presenta sicuramente come un'edizione molto bella e anche molto interessante. Il ritorno di Federico Buffa, il più grande storyteller italiano, sicuramente ci farà apprezzare non solo la storia dei mondiali ma le storie di grandissimi personaggi che hanno fatto il mondo del calcio. Ci sarà un primo momento in cui io dialogherò con Bruno Pizzul e forse riusciremo anche ad avere la presenza di Dino Zoff, uno dei protagonisti di tanti mondiali così come Pizzul che ne ha raccontati ben nove. E poi naturalmente ci sarà Buffa, Federico Buffa su Sky ha raccontato le sue storie mondiali che oggi sono diventate anche un libro.